Per quello che ci riguarda manterremo ferme le disposizioni che sono ancora vigenti. Chi viene in Campania, non mi interessa da dove, deve segnalare la propria presenza all'asla di appartenenza, deve andare in auto isolamento, cercheremo di fare di tutto per avere dei controlli anche rapidi per non avere gente che stia due settimane in auto isolamento. Ma il rischio è troppo grande e probabilmente prenderemo delle decisioni di rinvio di queste scadenze per Capri, Ischia, Procida, perché lì abbiamo situazioni particolarmente delicate. Se arrivano migliaia di persone, ovviamente abbiamo strutture ospedaliere limitate, dobbiamo avere la possibilità di fare dei controlli preventivi. E' un atto di responsabilità e di tutela di questi gioielli turistici che noi abbiamo, ma che come tutti i gioielli sono delicati, vanno curati, non possiamo avere immissioni di massa non controllate. Questo è uno dei problemi ai quali stiamo lavorando in queste ore, cioè come governare questi flussi. Ci auguriamo che il Governo nazionale ci dia una mano, le forze dell'ordine, i controlli ai caselli autostradari, alle stazioni ferroviarie, sollecito anche le amministrazioni comunali a dare una mano con le polizie municipali. Noi saremo presenti con le asla, ma è chiaro che per noi è un momento decisivo, decisivo.